salve ragazzi siamo al 25 aprile è passato quasi un altro mese dall'ultimo controllo che ho fatto per questi innesti la situazione è buona adesso però vi volevo far vedere un piccolo problemino ragazzi facciamo un controllo allora questi innesti sono stati fatti 2702 qui ok questo è un po più indietro rispetto a questa però qui siamo salvi perché ne abbiamo due ecco il problema è proprio questo invece questo innesto qua qui le gemme sono state rosicchiate da un camatore oppure da un antonomo adesso devo capire cosa è stato qui siamo già più a rischio perché abbiamo lasciato solo una marza dunque il discorso di mettere due marze è di avere il piano b nel senso che se c'è un problema di questo genere almeno ho altre due gemme a disposizione passiamo a questo qua ne avevo fatte due qui tutto bene a parte questa che non si è sviluppata però qua ne ho due marze dunque sono a posto andiamo a vedere subito gli altri qui lo spazio non permetteva ho lasciato assolutamente una marze qui siamo ok e anche qui bene perfetto possiamo ragazzi concludere così se lo spazio lo permette bisogna sempre fare due marze e non una che abbiamo diciamo una sicurezza maggiore di riuscita ed evitiamo magari questi problemi grazie a tutti i ragazzi e alla prossima iscriviti al canale iscriviti al canale